Natura! Stramiamo su Twitch, si chiama GeoffEmpire. Intanto non ci vedono, dovremmo mettere la webcam. Potevo provare a fare lì quella delita creta coi celti, coi pradoni del guado, a vedere cosa succede. No, è vero, magari riusciamo a farlo entrambi, perché poi di nuovo c'ho la diretta dopo. Quindi c'ho una retta di tempo. Stramiamo tutto. Culo. Un po' pesantito forse. Ok. Ok, andato, andato. Sono curioso di sapere se il tuo computer esplode. Esatto. Adesso non so quanto sia impegnativo. Un po' pesante. Un po' pesante. Un po' pesante. Un po' pesante. Sì, ti sei trovato il mouse nuovo da comprare intanto. Sì, la tua ragazza vedrà lo stream e dirà, ah, vedi, non saprà mai. Sì, la tua ragazza vedrà lo stream. Sì, la tua ragazza vedrà lo stream. Prendi lo start e poi li infili un accanto all'altro. Certo, penso che sia una cosa così... L'audio solo del tuo, sti cazzi. Cos'è che lo usi per registrare? Ah sì... Non c'è comunque... Non c'è... 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 Siamo già a 92 di pietra su 10.000 Non ha tantissimo aro però ha fatto partire, mi servono un po' di cose Non c'è un po' di cose Per mettere qualcosa che spendi punti impero e livelli di civiltà senza doverti fare Perché le queste puoi saltare solo se sei già a livello quarano Sì, però comunque ci vuole, ci vuole il suo tempo Allora Allora Ho visto che si sono sciolte più o meno a distante C'è una caravana a fermarsi Certo Sì Possiamo fare questa ma non potete vedere Sì 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 Sto solo fino di fare le Tecnologie del mercato Sì 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 Due minuti e mezzo Sì 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 Ah Ah Vabbè senti vado già a fare quello che ci posso Vabbè 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 Sopra Passiamo sopra questi cretini Non dovranno passare sopra Sì Vabbè 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 Grazie. Grazie. Seguiranno qualcuno che scappa. Grazie. 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 non ti preoccupare 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 si ma sembra veramente delle puste ah ma c'era uno stronzo lì di qua non ti preoccupare 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 Vediamo se muore prima, sto cretino. Vediamo se. Grazie Oh Vabbè ormai direi che si possono anche riposare Oh che si muove più? a questo e io ho uno male 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 ma in corte? quanti cazzo c'è in sola? e le frecce che... c'è un po' di problemi c'è un po' di problemi ah è abbastanza questa è un po' per una fiumiana un po' di problemi perché ho le caserne lontane quello è il problema è un po' di problema c'è un po' di problemi questo è questo quello è un po' di problemi in provvedere continua e qui ok l'interrogare è un po' di è un po' di ecco 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 andato vivono esatto ci sarà uno stronzo rimasto sulla strada e 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 niente ho trovato sette ricette per fare inutilissima